Il Chiosso del Bramante è una realtà museale, romana, privata, un unicum a Roma e in Italia. Una realtà che nel corso degli anni però si è affermata in un palcoscenico assolutamente internazionale. Usando un termine tipico romano andiamo fortissimi. Abbiamo un target giovanissimo che ci segue. Il Chiosso però non è solo mostre, è tanto altro. Abbiamo una caffetteria e un bookshop con ingresso indipendente dalle mostre. Da sempre abbiamo una visione di rinnovamento nel rispetto della struttura architettonica. Questa tezzostruttura è una vera e propria opera architettonica contemporanea che non ha nessun impatto sul Chiosso stesso. E infine il rinnovo di tutto ciò che è l'impianto termico del Chiosso. In questo abbiamo trovato una sinergia con Credem Leasing e abbiamo portato avanti insieme a loro questo discorso. Grazie a tutti.